Siamo in diretta alle 19.56 qui da RST Radio Science TV di Treviso ed emittenti collegate, tra cui ricordo anche Radio Fabro Veneto online, perché è una notizia che tra breve vi daremo che riguarda in modo particolare gli ascoltatori di Radio Fabro Veneto. Siamo nell'informazione di RST Informa, questa informazione di aggiornamento che vediamo quando ci sono delle notizie che riguardano problemi di carattere sociale o ambientale. Faccio presente che non è un'edizione speciale questa, ma è questo nuovo programma di informazione. Dunque, rapidamente abbiamo una notizia che ci è giunta proprio poco fa in studio, in redazione, da parte dei Rangers d'Italia e come sapete abbiamo aperto una stretta collaborazione. Dunque, la notizia parla di inquinamento, sorpreso dai Rangers d'Italia ad abbandonare rifiuti, quindi abbiamo un degrado ambientale. Questa volta è andata male ad un soggetto intento ad abbandonare i materiali edili in una zona dove ormai è ben riconosciuta da molti come una grande discarica abusiva. Una pattuglia dei Rangers d'Italia del nucleo operativo itico-ambientale in servizio per una serie di controlli itici notturni nei canali interni di Marghera riescono a sorprendere sul fatto chi meno si aspettava. A fare ancora una volta da padrone, dinanzi ad una grande montagna di calcinacci ancora presenti, prevalgono i rifiuti provenienti dall'attività edile. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, ma pure alle confidenze di molti amici pescatori che conoscono molto bene e che nutrono una discreta simpatia nei confronti dei Rangers d'Italia, gli agenti del nucleo operativo sono nel tempo riusciti a sorprendere sia chi abbandona i rifiuti, sia chi pesca di frodo e trasporta nel tempo quintali di vongole senza alcun permesso. Proprio i pescatori, tempo addietro, confidavano che insistono ancora soggetti intenti a calare reti nelle canalette adiacenti alla zona industriale del petrochimico ed abbandonare rifiuti in qualsiasi angolo libero. Molti altri invece ci chiamano per comunicarci che ci sono altri soggetti intenti con imbarcazioni all'interno di altri canali come il Dese o la vicina Idrovia sulla statale Romea, intenti a compiere altre azioni illegali sulla pesca, fatti questi che purtroppo con i nostri mezzi non possiamo affrontare. Questa è la sintesi del comunicato stampa dei Rangers d'Italia. Abbiamo ancora un minuto scarso, possiamo darvi qualche altra informazione sempre inerente a questo discorso, proprio in via Bottenigo, quindi riprendiamo il comunicato stampa dei Rangers d'Italia, dunque proprio in via Bottenigo nel mese scorso si denunciava la presenza oltre che del materiale edile, frantumato e libero al suolo, la presenza di scarti di ondulina, di ethernet, materiale contenente amianto. La difficoltà dello smaltimento legata principalmente ai costi, molte volte ritenuti importanti, inducono molte volte i detentori del materiale a fidarsi di chi poi non ci pensa un attimo ad abbandonarlo fuori di casa in mezzo ad un campo con conseguente dispendio economico per tutti gli abitanti. Importante è pure il problema dello smaltimento che dovrà eseguire chi di competenza, proprio perché il materiale è di fonte e origine ignota, necessita di analisi chimica per escludere la possibilità che nel contenuto non sia presente il pericoloso absesto. In caso contrario il centro di recupero non potrebbe riceverlo come prodotto adatto al recupero. Dunque alle 20 dobbiamo dare la linea alla regia, è tutto per RST Informa, letture in studio di Massimo Donella, RST Science, linea diretta con informazione. Grazie a tutti.